Alta pressione di matrice africana sul mediterraneo centro-occidentale con condizione di marcata stabilità su gran parte della nostra penisola. In Toscana, giovedì 11 luglio, sereno poco nuvoloso, venti deboli a regime di brezza fino a moderati di maestrale dal pomeriggio sulla costa sud di Piombino, mari poco mossi, temperature quasi stazionario in lieve calo su valori superiori alle medie. Anche sul territorio provinciale cielo sereno poco nuvoloso, a Lucche sulla Piana temperatura minima 19, massima 32 gradi, a Castelnuovo-Gartagnane zone montane minima 18, massima 32, a Viareggio sul litorale minima 23, massima 28 gradi, venerdì situazione pressoché stazionaria. Grazie per la visione!